In collegamento telefonico da Kiev, la nostra corrispondente Maria Korreniuk si trovava nel centro di Kiev quando sono iniziati gli scontri di questo giovedì. C'è una densa colonna di fumo che sale da Piazza dell'Indipendenza, racconta. La situazione è sempre molto tesa, la corsa degli aiuti non si ferma. Abbiamo parlato con chi è stato in piazza e non smettono di piangere, nonostante all'apparenza non sembrino spaventati. In uno degli hotel vicino a Piazza dell'Indipendenza abbiamo filmato una decina di corpi e alcuni testimoni hanno raccontato siano stati uccisi da colpi di arma da fuoco. Tutti sono stati feriti da pallottole. Una donna in piazza mi ha raccontato di avere visto con i propri occhi almeno sei corpi. Alcuni pensano che la protesta dovrebbe continuare ma senza il ricorso alle armi, altri intanto preparano le Molotov. I manifestanti raccontano di cecchini appostati che sparano sui manifestanti più radicali. L'ufficio temporaneo di corrispondenza di Euronews che si trova all'hotel Ucraina è bloccato, non possiamo raggiungerlo. Si spara ovunque intorno. L'ufficio temporaneo di corrispondenza di Euronews che si trova all'hotel Ucraina. E' un'altra cosa che si trova all'hotel Ucraina. E' un'altra cosa che si trova all'hotel Ucraina. E' un'altra cosa che si trova all'hotel Ucraina.